Il mutuo prospettato dall'Aggiunta regionale per pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese sembra scontentare davvero tutti, non tanto per lo strumento in sé quanto per i modi in cui la Regione intende pagarlo. Una posizione forte in questo senso è quella di Confindustria Sicilia. Il presidente Antonello Montante non esita a definire il mutuo come l'unica soluzione possibile ma pone un no categorico all'idea di congelare le addizionali IRPEF e IRAP per garantirlo. La Regione deve trovare i soldi in un altro modo dice Montante per evitare di scaricare tutto su cittadini e imprese congelare per 30 anni le addizionali significa ipotecare una generazione e spaventare gli investitori. Un'idea trasversale questa fra i rappresentanti delle imprese siciliane come le 11 associazioni di categoria riunite al tavolo permanente. Il pagamento del mutuo dicono deve passare da Italia alla spesa e da una spending review massiccia all'interno della Regione. Tenta di difendere il provvedimento il governatore Crocetta che ricorda come i debiti il suo governo li abbia trovati in eredità dalle precedenti giunte regionali. Secondo il presidente però si può arrivare alla riduzione delle addizionali IRAP e IRPEF e annuncia di aver chiesto al Ministero la possibilità di incardinare una legge regionale specifica che preveda dal 2018 l'utilizzo di parte del risparmio anche per la riduzione delle imposte. Solo che questo che fa già parte del programma di governo potrà essere fatto a conclusione del tavolo col Ministero. Oggi la questione in atto è diversa dice Crocetta senza il disegno di legge sui pagamenti rischiamo di non poter pagare le imprese siciliane perché la mancata riscossione di quelle nuove entrate potrebbe bloccare l'economia siciliana e le casse della Regione.